Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se ne è andato a Tessalonica, crescente e andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Fin qui la lettura della parola di Dio. Potete accomodarvi. Come descrivere la fine della vita dell'Apostolo Paolo? A me piacciono tanto i tramonti e grazie a Dio dove abito ho la possibilità di vedere dei tramonti spettacolari perché abito molto in alto. La cosa che ho notato in tanti anni è che non esistono due tramonti uguali. I colori sono così belli, così vari, le sfumature. Ogni tramonto è un capolavoro. E possiamo dire che il tramonto della vita di Paolo è suggestivo, è come uno spettacolo. In Paolo non c'è timore, non c'è fretta, non c'è impazienza. Sa che i suoi giorni sono contati. Sa che sta per essere giustiziato. Ma pur sapendo che Nerone avrebbe messo fine alla sua vita, Paolo è tranquillo. Paolo è sereno in Cristo. Paolo non è preoccupato. Aveva una viva speranza e una fede robusta in colui che l'aveva chiamata in colui che l'aveva chiamato al suo servizio. Pertanto la morte non poteva incutergli timore. Gloria al Signore. E Paolo si preoccupa non delle proprie sofferenze, ma di impartire a Timoteo, suo diletto discepolo, collaboratore, conservo, le ultime istruzioni. E qui lascia il suo testamento spirituale che grazie a Dio non è valido solo per Timoteo, ma è valido per tutti quanti noi. Che Dio ci aiuti ad avere una visione nitida dell'eternità. Che Dio ci aiuti a capire e a non dimenticarlo mai che sulla terra siamo forestieri di passaggio. E il nostro destino è quello di andare in cielo. Dio ha messo nei nostri cuori il pensiero dell'eternità. E anche se abbiamo un piede qui sulla faccia della terra abbiamo un altro piede oltre il confine dell'eternità. Già siamo nell'eternità. Siamo proiettati verso l'eternità. Siamo diretti in un luogo meraviglioso dove godremo la gioia, del Signore. E lo serviremo per sempre insieme a tutti quelli che ci hanno preceduto nella gloria e insieme agli angeli eletti. E Paolo dice Timoteo io sto per essere offerto in libazione. E l'Apostolo fa riferimento alle offerte da spandere. Citate i numeri. Capitolo 15 verso 5. Farai una libazione di un quarto di in divino con l'olocausto o il sacrificio per ogni agnello. E allora Paolo ha questo pensiero. La mia vita, il mio sangue sarà versato come il vino dell'alibazione sopra un sacrificio. Ed era felice di questo. Non era preoccupato. Ma come Paolo stai per morire, stai per essere suppliziato. E come ci dice la storia, stanno per tagliarti la testa. Ma Paolo era tranquillo, sereno, gloria al Signore. Egli sa che quando morirà il suo sangue sarà sparso come il vino dell'alibazione. Certamente il sangue dei martiri non può essere paragonato al sangue versato da Gesù sulla croce. Ma come ha detto qualcuno, il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Il sangue dei martiri ha dato sempre poi luogo ad una serie di conversioni e di arricchimento, accrescimento, della Chiesa. La quale, benché perseguitata ed oppressa, continuava a crescere e continuava a servire il Signore. Il tempo della mia dipartenza è giunto. È venuto il tempo di partire. Ed usa un termine marinaio. È venuto il momento di sciogliere gli ormeggi per prendere il largo. La mia nave, la nave della mia vita, sta lasciando questo porto terreno per avviarsi verso il porto celeste. È venuto il momento di sciogliere gli ormeggi. È venuto il momento di andare in un altro porto. Vedete come affrontava il pensiero della morte Paolo. È venuto il momento di uscire dal guscio del tempo per entrare in quello dell'eternità. È venuto il momento di essere con il Signore. E sia dunque che viviamo, scrissi ai Romani, o che moriamo, noi siamo del Signore. Non lo dimentichiamo. Siamo Suoi per l'eternità. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore sia dei morti che dei viventi. E chi crede in Gesù, benché morto, vivrà. È venuto il tempo di andare a casa, di tornare dal Padre Celeste. E quello è un giorno di gaudio, di trionfo, di vittoria. La morte non terrorizza i credenti, perché Cristo l'ha vinta per noi. La morte è un veicolo che ci porta in alto. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Mentre stavano lapidando Stefano, Stefano aveva la visione dei cieli aperti e di Gesù alla destra del Padre che si alzava in piedi per accoglierlo. Fu un momento, un attimo, e si trovò in cielo. in mezzo agli angeli, nella presenza del suo Salvatore. E poi Paolo guarda in retrospettiva alla vita che ha vissuto. E di fronte alla morte noi dobbiamo essere pronti a fare un consuntivo, un bilancio della nostra vita. E Paolo dice, e non lo dice con orgoglio o con presunzione, ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa, ho osservato la fede. Gloria al Signore. E usa due metafore della vita cristiana. La metafora del soldato. Sapete, ogni cristiano è un soldato, siamo soldati e soldatesse del Signore. Amen. Ogni cristiano è impegnato in un arduo combattimento che non è contro carne e sangue, cioè contro nemici visibili, ma contro nemici invisibili, contro entità negative che sono nell'aria intorno a noi, contro le gerarchie sataniche, diaboliche, contro l'esercito del diavolo. Gloria al Signore. E noi dobbiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. Pertanto Paolo dice rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E lui macchina contro di noi. Vuol farci smettere di correre, vuol farci smettere di combattere e vuol farci perdere la fede. Ma Paolo dice ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E come non ce la spuntò con Paolo, non ce la spunterà nemmeno con me e nemmeno con voi. Perché Gesù, abbiamo detto prima, intercede per noi, prega per noi e noi possiamo rivestire un'armatura completa per resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il nostro dovere. Noi dobbiamo combattere contro l'inimicizia del mondo, contro l'inimicizia di Satana e anche contro l'inimicizia della nostra natura umana. Il combattimento è anche contro la nostra natura adamitica che è corrotta, tendente al male, peccaminosa, deve essere vinta, deve essere sottomessa alla nuova natura che Cristo ci ha donato. Sì, perché noi siamo stati fatti partecipi della natura divina. Quando il Signore ci ha salvato, egli ci ha dato una nuova natura, una nuova mente, un nuovo cuore. Ma mentre viviamo sulla terra noi dobbiamo combattere contro il mondo, contro Satana, contro la nostra natura peccaminosa. E alla fine dobbiamo dire ho combattuto e ho vinto. Quando finirà il combattimento? Quando verrà la morte. Quando verrà la morte il combattimento finisce e allora non ci sarà più da combattere. Gloria al Signore. E poi c'è la metafora del corridore. Ogni credente è un corridore, un atleta. La vita cristiana, fratelli e sorelle, non è una passeggiata. A me piace passeggiare e quando sto in forma mi faccio pure 4-5 chilometri di passeggiata. Però io non corro, passeggio. E dove vado io c'è gente che corre sul serio. E mentre io passeggio loro fanno 4-5 volte il mio giro. Mi doppiano, mi dribblano. La vita cristiana non è passeggiare. La vita cristiana è correre, sudare, impegnarsi. lottare, sodo, combattere. Gloria al Signore. Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione, scrive Paolo ai filippesi, ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che sono avanti. Corro verso la meta, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo andava avanti, correva, correva, non si fermava, non si guardava indietro. C'è il pericolo di guardarsi indietro e fermarsi. C'è il pericolo di guardarsi dentro. C'è il pericolo di guardarsi attorno. Io guardo il fratello, la sorella e mi scoraggio. Il fratello sbaglia e io mi scoraggio. No, io guardo avanti. Davanti a me c'è il traguardo, c'è una meta precisa che devo raggiungere. Non voglio guardare nessuno, voglio guardare il traguardo e tagliare il traguardo per ottenere il premio. Che Dio ci aiuti. È una corsa stancante la vita cristiana, è vero, impegnativa, è vero, ma è una corsa gloriosa perché ha un lieto fine, la vita eterna. Che Dio ci aiuti ad essere dei buoni corridori. E poi ho conservato la fede. Non l'ho svenduta come fece Esau che svendette la sua primogenitura per un piatto di lenticchie. No, non l'ho barattata con la gloria umana, preferendo la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Di tutte le cose che avevo ho fatto un pacchetto e l'ho buttata via quella roba perché l'ho considerata spazzatura al fin di conoscere Cristo. E Paolo era molto referenziato, Paolo era molto colto, molto accreditato. Nella società era un fariseo, un vero fariseo, plurilaureato, era capace di parlare in diverse lingue e aveva una profonda cultura, ma di tutte quelle cose fece un pacchetto e lo butto via. Signore aiutaci a correre, a vincere, a conservare la fede, la vera fede che ha per oggetto colui che è, profeta, sacerdote e re, la vera fede che ha come compagna la buona coscienza. E il frutto di questa fede è la pace con Dio, una nuova vita in Cristo Gesù e infine la vita eterna. Non dobbiamo perdere la fede, perdiamo tutto, ma non la fede. La fede è il principio della nostra sussistenza, è la nostra linfa vitale. Senza fede è impossibile piacere a Dio e dobbiamo serbarla fino alla fine come fece il nostro fratello Paolo e come hanno fatto tanti altri cari fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nella gloria. Paolo aveva una gloriosa prospettiva. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Le scritture citano cinque corone. La corona della vita, che è per i martiri, la corona della gloria, che è per i pastori e gli anziani che pascono il greggio del Signore e lo fanno bene, che Dio ci aiuti. E poi c'è la corona dell'allegrezza che sarà conferita a quanti hanno condotto anime a Cristo e nella gloria quelle anime saranno una corona di allegrezza che ci cingerà e noi ci rallegreremo nel vedere il frutto del lavoro, di testimonianza che abbiamo fatto per il nome del Signore. Poi c'è la corona incorruttibile che sarà conferita a quelli che hanno esercitato autocontrollo, temperanza e non hanno svilito il proprio corpo, ma lo hanno mantenuto tempio dello Spirito Santo, puro davanti a Dio e davanti agli uomini. E poi c'è la corona di giustizia a cui allude Paolo, che è il simbolo dell'eccellenza e della gloria ed è un riconoscimento alla rettitudine di colui che la cingerà sul capo. E Paolo è certo che il Signore gli metterà sulla testa quella corona quando comparirà davanti al bena, al tribunale di Cristo. Paolo non temerà e non temeremo anche noi, nemmeno anche noi, di perdere il premio perché lui è certo che il Signore glielo darà. gloria al Signore. Mi assegnerà in quel giorno il Signore, il giusto giudice, la corona di giustizia. A chi viene data? A tutti coloro che ameranno l'apparizione di Gesù. Allora se io vi chiedo, credete nel ritorno del Signore? Tutti dite amen? Credete? Amen? È così. Ma tra credere nel ritorno del Signore e amare il ritorno del Signore al punto di dire Signore, vieni ora, vieni adesso, non mi interessa altro, voglio vederti, vieni con la tua gloria, rapisci la Chiesa, Signore. Siamo pronti noi per questo? Siamo pronti? Signore aiutaci. Questa corona sarà concessa a quelli che avranno amato l'apparizione del Signore Gesù. Alleluia. Paolo, non si aspettava il giudizio, ma la ricompensa del Signore. Si stavano compiendo le sue attese, le sue aspettative, finalmente avrebbe visto faccia a faccia colui che vide in una grande luce sulla via verso Damasco e sarebbe stato con Gesù per sempre. Nessun imperatore crudele avrebbe mai potuto separarlo dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il Signore. E poi il testo che abbiamo letto ci parla anche della grande umanità di Paolo. A volte noi pensiamo ai servi del Signore come ad una sorta di Superman, ma non sono così. Grazie a Dio. I servi di Dio sono umani. Amen. Hanno la loro umanità e anche le loro debolezze. Cerca di venire presto da me perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se ne è andato in testa l'onica. Che dolore. Quando un'anima si perde, quando un collaboratore si allontana, e si perde nel mondo. Tessalonica attirava per la sua vita mondana, questo giovane che aveva condiviso l'opera missionaria con Paolo e poi a un certo punto aveva amato il mondo più che la chiamata del Signore. Paolo è addolorato. Vieni presto. Vieni presto, Timoteo. Dema mi ha lasciato. E poi cita Crescente, Tito. Poi dice solo Luca è con me, l'autore del Vangelo, l'autore degli atti degli apostoli. Il diletto Luca, il medico diletto, ha condiviso tante esperienze con Paolo, anche la prigione. E poi dice prendi Marco e conducilo con te. Marco era il nipote di Barnaba e ci fu una questione tra Paolo e Barnaba perché durante il primo viaggio missionario a un certo punto questo giovanotto lasciò la missione e se ne andò. Successivamente voleva rientrare nel gruppo ma Paolo disse no, non è adatto, se n'è andato, ha rinunciato. Adesso perché dovrebbe cogliere i frutti del lavoro missionario? E Barnaba e Paolo discussero e si separarono. Paolo allora era più giovane, erano passati molti anni, forse più di vent'anni. Marco era un ragazzo, un giovanotto nella fede. Adesso Paolo è un uomo maturo, anziano. Marco non è più un giovanotto e Paolo sa che Marco ha lavorato bene per il Signore e rimuove ogni pregiudizio e dice prendi Marco e conducilo con te perché mi è molto utile nel ministerio. Tichico l'ho mandato ad Efeso. Marco era apprezzato e utile e qui vediamo la maturità di un servo anziano e un giovane ministro emergente che sta crescendo spiritualmente. E poi vediamo un altro aspetto dell'umanità di Paolo. Proprio oggi ho tirato fuori finalmente il cappotto dall'armadio perché oggi fa freddo. Allora quando fa freddo uno che fa? Prende il cappotto, non posso andare in giro con la gioco, se no mi ammalo. E Paolo dice a Timoteo quando verrai porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo. Il mantello all'epoca era l'equivalente del nostro cappotto. Nella prigione di Roma faceva freddo e se visitate il carcere Mamertino vi rendete conto di che cosa si tratta? di questo antro sotterraneo scavato nella roccia e vi renderete conto dove Paolo è stato imprigionato e come sia stato esposto alle intemperie, al freddo. Portami il cappotto. Un corpo da coprire, da riscaldare, ma anche una mente da nutrire e da esercitare. Portami i libri, specialmente le pergamene. Devo nutrire la mia mente, devo studiare la parola, mi devo mantenere in esercizio per continuare a rimanere attaccato a questa fedele parola fino all'ultimo giorno della mia vita. E poi l'ingrollabile certezza di Paolo. Il Signore mi libererà, verso 18, da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. A me. Che tramonto meraviglioso. Che Dio ci aiuti. A Dio sia la gloria per ogni liberazione della nostra anima dalle prove che finiranno. Tutto finirà. Finiranno le tensioni, le prove, i dispiaceri, gli affanni. Tutto finirà. E noi abbiamo la certezza dell'accesso al regno celeste. Ci aiuti il Signore a spendere bene la nostra vita, i nostri anni o quello che ci resta per la sua gloria nella prospettiva del nostro ingresso nel suo regno di gloria. E noi saremo sempre con il Signore. E nessuno mai potrà separarci da Lui. Che bel tramonto. Che testamento spirituale ci ha lasciato Paolo. Che Dio ci aiuti ad imitare la fede di coloro che ci hanno preceduto. Signore, rafforza la nostra fede. Signore, donaci una nuova unzione questa sera. Chiniamo i nostri capi in preghiera.